Siamo qui a buttare giù un boccone amaro perché in una giornata dove non si è giocato molto a calcio avevamo con la grinta, con la voglia, portato la partita dalla nostra parte e purtroppo negli ultimi istanti abbiamo subito questo gol e adesso rimbocchiamoci le maniche, guardiamo alla prossima e continuiamo a lavorare in settimana come stiamo facendo e pensiamo a domenica prossima. Un campionato particolare, difficile, a cui voglio e mi devo sicuramente adattare il prima possibile potevo naturalmente fare di più e lo so, so che posso dare molto di più alla squadra insomma sto lavorando per entrare anche al meglio in sintonia con i compagni la classifica dice questo, ci sono ancora diverse partite, la situazione penso si possa assolutamente ribaltare abbiamo anche lo scontro diretto e lavoreremo settimana dopo settimana per risuperarli e per vincere questo campionato.